Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video della Computer Museo dove stiamo facendo il test 9shot del telefono Sony Xperia E3 Un telefono veramente ottimo, secondo me è un ottimo acquisto soprattutto perché permette l'unico telefono che finora ho sentito che trasmette in diretta live streaming su YouTube Quindi per voi youtuber che magari volete fare le dirette attraverso il cellulare al posto del computer ve lo consiglio Il test 9shot non è che convinca più di tanto perché come vedete non si vede praticamente nulla e anche alzando l'esposizione del nostro telefono al massimo non si può notare niente di che Di solito qui una macchia fotografica normale o altro riesce a riprendere senza problemi la luce ma in questo caso risulta sottoesposto Diciamo che il video in questione non è che venga chissà che L'unica parte dove si vede molto bene è un primo piano a circa un metro di distanza come questo qui d'esempio Per il resto dalla Computer Museo è tutto, spero che il video vi sia piaciuto e che vi faccia capire che comunque questo telefono è veramente molto buono ma è ridicolo nella parte video notturno Quella invece giornaliero come avete visto è ottimo Nella prossima puntata invece faremo l'ultimo video di questo Sony Xperia E3 e sarà quello della macchina fotografica frontale Questa è stata la Dank. tale.